Caloggio Emanuele, storico esponente del sindacato Nebruideo, è stato riconfermato alla guida della CISL Funzione Pubblica della provincia di Messina. La rielezione del sindacalista di Galatima Mertino è avvenuta questa mattina all'Hotel Europa nel corso del quinto congresso provinciale nel quale si è parlato di pubblica amministrazione, servizi sociali, welfare e riordino della sanità. Per Caloggio Emanuele l'impegno ad affrontare un ulteriore quadriennio ricco di sfide delicate ed importanti. Bisogna lavorare in tantissimi punti, soprattutto la valorizzazione del pubblico impiego, soprattutto la valorizzazione del lavoratore pubblico, migliorare la qualità dei servizi, mettere in garanzia il livello occupazionale. Tanti settori vanno affrontati dai precari alla città metropolitana, alle X province, ai disastri dell'amministrazione comunale della città di Messina ma anche alle criticità forti del territorio rispetto a comuni che non pagano stipendi ai lavoratori, 7-8 stipendi. A Tortorici soprattutto è capizia per l'arroganza di quelle due amministrazioni. Oggi a Tortorici il comune è stato dichiarato in dissesto, abbiamo rapporti con i commissari, vogliamo superare questo gap. Non è possibile che in una comunità di 6.500 abitanti con 150 lavoratori dipendenti da 8 mesi non percepiscono stipendi, capite l'indotto per una comunità qual è. Grazie. 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 Grazie.